Il primo giorno è un po' e un progetto per venire. Può rimanere un po' lì, perché sennò diventa un po' difficile sostenere, però qua ha un modellato più forte. Questo è un po' quello che faceva di un'altra, però non è venuto fuori nel modellato. Quando uno vede la macchina, ve lo vede, bam! Questo, proprio questo è un volume che senti, bam! Con il missile sotto tensione. Hai due linee. Uno viene così, e l'altro viene così. E' fatto. Un braccio e due linee sono tutte super fiche sotto tensione. Na 4 o 5 anni, era il teamleader dei junior designers. Tutta tutto molto fluo, non è così che uno in un burocco diventa, che si arriva una promozione e una nuova titola e una nuova cartella. Ci vediamo che attraverso l'initiatività, che si arriva un'onterrello. E per questo è stato molto importante. Nido non è un progetto. È stato un progetto che stia a scherzare, dove c'erano più ruota per innovazione. Andrea Pinterino è stato molto enthousiastato. Questo è il primo che ho presentato per lui. E lui ha detto che era molto impulsivo e direttamente. E lui ha detto che questo è il prossimo consapevole. Questo è il primo schizzo di Danido. Questo è un post-it. Questo è un piccolo, che si tratta di una piccola. E che ha un piccolo, mentre una piccola ha molto piccolo. La maggioranza della piccola che ha. E che ha in un piccolo... ...e la maggioranza delle persone. ...e la maggioranza dell' bloccio di un piccolo. In un piccolo o un piccolo. Ci ho un piccolo che il piccolo. Di quello che hai con il piccolo, è quello che vuole. E mentre ci sono qualcosa di più. Il piccolo è in una forma che corromente all'automno. In un piccolo. E da una piccolo. E gioste le regalazione al personale. Il sviluppo di autos ha sempre un equilibrio con loro. Molto dici che non hai dei sottotitoli che hai anche. Ma cosa mi ha fatto, è che un caratteristico che è sempre verificato ma è qualcosa di più positivo. Autos sono molto relevanti in il nostro strumento. E non mi sembrava di un'escrizione con un'escrizione negativa, nervosa. Se non si è un po' di più ognuno nel campo. La prima di design director Lorenzo Ramacciotti, che è stato fatto 15 anni, è stato pensiuto. Andrea Piniferina ha su un tempo per la nuova persona che era design director. e che aveva diversi candidati e che aveva in un giorno riuscita a un giorno e ha detto che mi ha detto che è stato più piccolo ma io sono più chiuso e mi ha chiuso mi ha chiuso per essere design director di Pina Friè e così è stato E questo è stato super intensissimo, perché ci sono molte cose succedenti. E poi ho lavorato 2 anni molto intensamente con lui. E' stato un'unica band. La intensità è la terza generazione della famiglia. E' stato molto più di un negozio. E' stato un'unica di continuo. E' stato un'unica che si è stato molto a mettere con il suo padre e il suo grande, che sono gigante in l'automotività. E' stato un'unica ideale... Non c'è un paio che aveva un paio, quindi non c'erano che siamo amici, ma io lo so e credo che è stato anche così, che c'erano qualcosa di complementare tra le due. Non c'è qualcuno che non c'è. Come sai, è Andrea l'anno scorso l'anno scorso l'anno scorso. E... Ah, è stato un seriore, un seriore, un seriore. Non ho avuto nessun problemi per il corso nel corso. Ma io mi mi per esempio in una presentazione con un Ferrari. Io mi miso di un impulsivo, con lui di stai, di una cosa in flicca, di un piede ingoi, di una bomba che non plofte, che si è piuttosto, che si è piuttosto in un altro modo, che si è piuttosto. Io ho una relazione con Paolo Pinfarin, il mio frio, che è davvero più di Andrea, ma l'ultima di Andrea è qualcosa di niente. Il mio grosso, il mio schoombagista c'è l'escrizione. Allora, quando sono arrivati a casa, c'è sempre qui. È in un'altra parte che si guarda in un'altra parte. C'è una cosa che c'è da qui c'è. Sì. Non ho mai avuto il lavoro del design director Pino Farina. Financiei non ho mai problemi, ma ho sempre pur di vita, come ho avuto in questo momento. E mi sembrava un piaccio di lavoro, perché anche in questo lavoro, in questo caso, un video in De Heuvel, un Ferrari Vodedeur. Il mio sentimento di libertà, in questo momento è ancora più ampio che ci sono un po' di quattro metere. Mi piuttosto è molto piuttosto che viveremo. Mi piuttosto anche di questi momenti, con un po' di hot shots, con un chique diner, con un po' di strategie e parlare. E poi vivi il contrasto, per il suo averso qui viene. Per questo è Piemonte, non è così vero come la cultura del Vlaamse, o del Ves-Vlaamse, che io lo conosco, non c'è più pohà, e non lasciare molto di tutto ciò. Un altro che mi piace è Baraghan. Hai Baraghan? Grazie a Bargan, è che la straccia molto fuori, ma come si guarda la texture, è molto warme. La felle colorazione, la straccia, la straccia, la straccia, ma la natura in vera e e per il super stragato il un vero e il vero e il vero. È bellissimo come si si siano impianti per la sua parte, senza l'attività, con la natura. James Turell è un artista che ha molto lavorato con la percezione del licht. Ha parlato molto di coloro. Ci sono dei proiecti in cui un gato, in cui la luce, e che senti un po' di Lincoln, con lo che ho parlato di Barragan, di un'abstraherente, ma di un'attacco di natura, non un'attacco di natura. Sono un grande favorevolezza di un pezzi di Rem Koolhaas. Per esempio la CCTV Tower in Peking. A l'altra parte, è un enorme iconico. A l'altra parte, il nostro rastro è completamente con il computer. La rastro, la iconica, va quasi contro la natura della struttura. Ci sono alcuni punti di vista, che parecchia. Anche l'altro rastro, è molto più di 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 più. Questo mi piacevole, perché con le strumenti di computer, che possono essere primitievi, naturali, letteralmente a livello di più. E in quel genere, cosa che mi piaceva, è che la intuïtia che si fa a scopere, ma è una comunicazione che è riuscito perché anche la intuizione appellerebbe che è sterk genoeg per me è perfetto in la linea di quello che ha fatto Pina Farina è proprio il momento di mettere a la luce la luce, che ci sono la luce, che ci sono la luce, che ci sono e quindi interagire non è mai così come si è venuto in strada la colla è una cosa che flirta con la mazza di un'altra ma anche anche come si è per il loro modo perché c'è una grande differenza tra un'idea e un'idea Un ideo è uno, un ideo è uno, un ideo è uno, un ideo è un ideo di 10. Nostro di Concept Car, è legato la volle designazione di Pinafrina. E con un gruppo di circa 120 persone, stiamo attraverso un 15 progetto in parallel. Un ideo di produzione per ferrari e clienti in China e india per pubblico transport, come la nuova Eurostar. Un'e avanti che voglio fare, è che l'altra parte dell'altra parte dell'altra parte dell'altra parte. L'altra parte voglio cercare. Un'e avanti che voglio cercare di un'altra parte di attrazione per il fronte. Un'e avanti che voglio cercare di capire. Il fatto che è un'attrappone, perché diventa un'attrappone. Un'attrappone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.